E come ti dici il film? E come va? Però hai quell'uomo che non ti dà su Bravo, bravo, bravo E si dai, ecco Oh, sito pronto Carlo Te vedo, te vedo Sì, sito il punto giusto Boh, la prossima gassò Aspetta più un po' sul video perchè La prossima gassò le diciamo a Carlo E a tutti quelli che si sente Rui, come credo io Acasso un video di questa chamba Rubio Femme Rubio Femme Lui, come credo io La prossima gassò, è l' 1942 E' un po' il progetto E' l'importante E' un po' il progetto E' il progetto Il progetto Il progetto Il progetto Rubio Femme Rubio Femme Rubio Femme Rubio Femme No, 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 no Lluio! 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 Lluio, Mexico! Lluio, Mexico! Lluio, Mexico! Grazie! Ven a Carlo! Un granissimo applauso a Carlo!